Come posso ridurre il rischio di cancro ai polmoni? Ci sono alcune cose che possono essere fatte per ridurre il rischio di cancro al polmone. Alcuni di questi sono facili da controllare e altri potrebbero richiedere lavoro o indagini. Gli esseri umani sono esposti quotidianamente a una serie di sostanze inquinanti che possono aumentare il rischio di cancro ai polmoni, ma non è sempre possibile prevenire tale esposizione. La soluzione migliore è ridurre il rischio possibile evitando certe cose e coinvolgendo comportamenti che hanno dimostrato che possono essere coinvolti in una riduzione del rischio. Il principale fattore di rischio per il cancro del polmone è il fumo. L'esposizione al fumo passivo non fa nulla per ridurre il rischio di cancro al polmone e invece lo aumenta. La linea di fondo è che le persone che fumano dovrebbero smettere di ridurre il loro rischio. Inoltre, non dovrebbero mai sottoporre gli altri a respirare il fumo di seconda mano, in particolare a distanza ravvicinata. Coloro che vivono con un fumatore dovrebbero insistere sul fumo che si verifica solo all'aperto, ben lontano da qualsiasi finestra aperta. Evitare gli ambienti di lavoro in cui l'esposizione al fumo passivo è costante riduce anche il rischio. Alcuni tipi di lavori che espongono le persone all'inalazione di sostanze chimiche possono aumentare i rischi di cancro al polmone, come l'amianto o altri. Qualcuno deve svolgere questi lavori ed è una fortuna che molte persone ora usino speciali respiratori per ridurre l'esposizione. È importante quando si lavora su lavori che richiedono l'uso di respiratori o respiratori per essere completamente addestrati su come usare questa attrezzatura e non lavorare mai senza. Alcune sostanze chimiche esistono nelle case che possono elevare le possibilità di sviluppare il cancro ai polmoni o altre forme. Queste includono radone e amianto. Di questi prodotti chimici, il radone è più pericoloso e non ha odore, quindi le persone potrebbero non rendersi conto che esiste nella loro casa. È possibile testarlo e far rimuovere qualcuno che si specializza nell'eliminazione del radone. Rimuovere il maggior numero possibile di sostanze chimiche non sicure da casa può ridurre significativamente il rischio di cancro al polmone. Alcune indicazioni indicano che gli alimenti che le persone mangiano e le bevande che consumano possono aumentare o ridurre il rischio di cancro al polmone. Bere alcolici in eccesso, più di un drink al giorno, può aumentare il rischio di una varietà di tumori. Mangiare cibo ad alto contenuto di grassi saturi può anche innalzare i cambiamenti nell'ottenere il cancro. Mangiare una dieta con un sacco di frutta e verdura può aiutare meglio le persone. In particolare il consumo di verdure crocifere come cavolo e broccoli sono legati a un rischio ridotto di cancro del polmone, anche tra i fumatori. Consumare da 3 a 5 porzioni di queste verdure a settimana può ridurre le probabilità di contrarre il cancro ai polmoni di circa il 40%. Frutta e verdure con carotenoidi, come arance, carote, mandarini e pesche, hanno anche dimostrato di essere efficaci nel ridurre le probabilità di sviluppare il cancro ai polmoni di circa il 25%. Per cento Per cento